Allora, Jack, secondo le coordinate che mi hai dato, questa è un'isola piena di tesori. Così dice la mappa, comandante Sparrow. E sei sicuro che la mappa sia corretta? Sicuro? Ci metterei la mano nel fuoco. No, l'ho già fatto io, non capire. E perché invece non prendi il cellulare e non vai su Isola Mea? Corpo di mille oloturie. Questa sì che è una grande idea, comandante Sparrow. Su Isola Mea trovi tutte le spiagge della Sardegna, anche le più nascoste, con immagini aeree, le foto e le informazioni necessarie su come arrivare, dove parcheggiare, dove mangiare e persino dove dormire. Scava più forte, vecchio mollusco! Scava! Invertebrato! Comandante Sparrow, è tutto il giorno che scaviamo, ma qua non c'è l'ombra di un tesoro. Jack, ma perché non ti levi questa benda dagli occhi? È questo il nostro tesoro. Grazie a tutti!